non c'è nessuna giustificazione su questa cosa fermo restando dico che in questi due anni di pandemia hanno assunto tutte le persone del mondo medici medici che facevano i doppi turni addirittura è uscita una nota della regione siciliana in cui chiarisce perfettamente che il medico che già contrattualizzato con l'aspo con un ente pubblico con fa altri servizi fa il medico di famiglia e fa il turno al lab vaccinale e il turno al lab vaccinale non può essere considerato non può fare non può essere considerato uno svolgimento del suo incarico pubblico ma deve avere l'extra no per fare il turno al lab vaccinale e quindi con tutti questi medici e queste persone che abbiamo coinvolto in questi due anni di pandemia non riusciamo a trovare tre persone per garantire la salute di sette pazienti allora qua dico saltano tutti gli alterini questo a questo punto dico la sanità il servizio che ti garantisce il servizio sanitario nazionale non è uguale in tutta italia e questo non è uguale in tutta italia perché se io da gela ma anche penso delle vostre zone mi volessi curare per bene su una una cosa specifica di certo dico nei nostri territori a parte qualche piccola eccezione non abbiamo la stessa la stessa lo stesso servizio sanitario che garantito ai romani o ai milanesi no perché per per al determinato tipo di patologie almeno dalle mie zone si va al san paele per dirne una o si va al al bambino gesù oppure quando ci sono delle cose particolari sui bambini ci sono noi il famoso gaslini di genova non è vero che la sanità nazionale garantita in tutta italia alla stessa maniera c'è una bugia questa cosa che si sappia e che ne prendiamo le conseguenze del caso se 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 ci dobbiamo raccontare ancora queste bugie